Per ribadire il valore del riciclo arrivano intanto le testimonianze e interviste a personaggi d'eccezione. Il tutto per un progetto promosso da Conai dal titolo I riciclati, storia di una seconda vita. E allora vediamo di che cosa si tratta e soprattutto ascoltiamoli. Campionissimi che raccontano per Conai sei oggetti simbolo della propria vita per rilanciare il valore del recupero e del riciclo. Testimoni all'eccezione è Joe Bastianich, Martin Castro Giovanni e Yudmila Radchenko che di fronte alla telecamera spiegano a modo loro come da cosa rinasce cosa. Cosa c'è di buono nel riciclarsi? Anche gli imballaggi hanno avuto la seconda vita diventando questi oggetti che noi possiamo usare nella nostra quotidianità. Quanti tacchetti avrò cambiato? Tanti, tanti, tanti. La mia opportunità è stata di riciclarmi nella vita. Come l'imballaggio possono diventare tutti questi prodotti che vedete qui. Come ottenere quindi una seconda vita? Riciclando. Si succede agli imballaggi che una volta differenziati possono essere trasformati in qualcosa di nuovo, così come succede ai personaggi intervistati che ci hanno spiegato come. Sapersi riciclare è un'arte? In qualche modo sì. Come io ho potuto traslocare in una nuova vita gli imballaggi, hanno traslocato in una nuova vita e sono diventati gli oggetti che state vedendo adesso qui. Mi sono riciclato parecchie volte, anche ultimamente, nel mondo di ristorazione e nel mondo di televisione. Il zaino ti permette di portare un pezzo del tuo passato in questo viaggio della vita. Se non volete che vi canto qualcosa, me ne vado. Ciao! Grazie per averci seguito l'appuntamento, come di consueto la prossima settimana. Arrivederci.